Ringo Sbagliato presenta Il Testimonial Sbagliato Capelli grassi? No Capelli secchi? No Capelli... No Ehm... sopracciglia? Sì Dalla scelta di un Testimonial Sbagliato nasce Sciglianz Il primo shampoo per sopracciglia Sciglianz Dona alle tue sopracciglia corpo e volume Per uno sguardo profondo e lucente Shampoo sopraccigliante Sciglianz Perché io non ho i capelli